In comunicado, Juventus annuncia che vai recorrere da Sanque Simpostas. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. La Juventus ha annunciato in una dichiarazione ufficiale che impugnerà la decisione della Federazione Italiana Calcio che ha punito il club con la perdita di 15 punti nel campionato italiano, a causa di frodi fiscali che coinvolgono trasferimenti di atleti. Juventus Football Club informa che la Corte federale di giustizia, sezioni unite, dopo aver valutato il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 63 del Codice di giustizia dello sport proposto dalla Procura federale ha dichiarato ricevibile il ricorso di cassazione e pertanto ha abrogato la decisione della Corte federale di giustizia, sezioni unite, numero 0089 barra CFA, 2021-2022 del 27 maggio 2022 e di conseguenza, ha determinato la penalizzazione di 15 punti nella classifica per la Juventus da compiere in questa stagione calcistica e l'inibizione temporanea di 16 mesi da parte del direttore sportivo, Federico Cherubini, per svolgere attività. All'interno della FIGC, con richiesta di estensione all'interno di UEFA e FIFA, il club ha detto nella nota. Con la revoca della decisione, la Corte d'Appello federale ha respinto la denuncia presentata dalla Procura federale contro la decisione della Corte federale di giustizia che, a sua volta, ha assolto Juventus e gli altri per mancanza di violazione disciplinare per quanto riguarda la valutazione degli effetti di alcuni trasferimenti di diritti di registrazione dei giocatori sui bilanci e il riconoscimento delle plusvalenze. La società attende la pubblicazione dei motivi e già comunica l'appello al Sports Guarantè College ai sensi del Codice di Giustizia dello Sport, ha concluso. Capire La Juventus viene punita dalla Federazione Italiana Calcio e perde 15 punti in campionato. La decisione di punire la Juventus è stata presa venerdì dalla Procura della Repubblica e alla presenza della Federazione Italiana Calcio FIGC. Anche i leader citati nello scandalo sono stati puniti e sospesi dall'attività calcistica per il tempo determinato dal deputato italiano, tra cui l'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e l'ex vicepresidente del club, Pavel Nedve. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.